Qui in diretta da Codogno, un po' desolata per questo provvedimento del coronavirus Vi ricordo che possono esserci manifestazioni completamente asintomatiche Quindi chiunque di noi può esserne portatore Non sapremo più che altro i numeri per privacy Fino a che nei prossimi giorni non arriverà l'esercito a immettere un tampone Tampone orofaringio vi ricordo C'è davvero poca gente in giro Poche persone che girano perché non si può uscire, non si può neanche entrare Infatti spero riaprano a breve un po' più di centri commerciali perché ho letteralmente fame Non sembra ma si causano più disagi per una semplice influenza, la freddore Che per una difterite Comunque sono misure necessarie per isolare qualsiasi tipo di epidemia Che nel corso della storia se ancora non si aveva un'arma sufficiente per sconfiggere nel caso del vaccino L'isolamento è essenziale Quindi mi seguirete ancora?